Sandro dove può arrivare questa squadra? Perché a me onestamente sembra che da una partita all'altra sia sempre più concreta. Oggi sbavature non ne ho viste. Praticissima, estremamente pratica. Dove può arrivare questa Inter? No, sono d'accordo, ma secondo me dove può arrivare, io ho già detto prima e dopo la partita con la Juve. Quello, secondo me, quella partita sarà il test, perché se l'Inter la riesce a giocare come ha giocato ultimamente, come sta giocando anche adesso, e quindi porta a casa un risultato positivo, allora secondo me si può cominciare a parlare di lotta per il primo posto. Io credo che a dispetto della classifica, che ovviamente vede davanti l'Eventus, l'Inter, anche se facesse un pareggio nello scontro detto con la Juve, avrebbe un lancio psicologico enorme. Cioè non cadere a Torino. Sì, se poi va oltre non ne parliamo. Ma, contrariamente alla classifica, l'Inter ha questo vantaggio.